12 luglio, oggi ricordiamo una coppia santa, i santi genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino, la più grande santa dei tempi moderni è stata definita Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo. Lei parlava dei suoi genitori, Louis Martin e Marie Zelie Guerin, Luigi e Maria Zelia, lei stessa, Santa Teresina, parlava dei suoi genitori come di persone fatte piuttosto di cielo che di terra, fatte piuttosto per il cielo che per la terra. Ebbene, la famiglia di Santa Teresa di Gesù Bambino, lo sappiamo, ebbe cinque figlie femmine, quelle che sopravvissero perché quattro figli poi morirono, due maschietti e due femminucce, cinque figlie femmine, tutte e cinque monache, tutte e cinque suore. Quattro entrarono, come sappiamo, nel Carmelo di Lisier e una, Leonia, entrò a Caen tra le suore della visitazione. Ebbene, chi erano i Martin? Erano una famiglia borghese, benestante, devotissima, intelligentissimi e laboriosi. Lui era un orologiaio di successo, Luigi, rinomato e stimato in tutta la regione di Alençon e lei era una merlettrice, potremmo dire, una facitrice di merletti, abilissima e quindi ricercata anche lei. Ambedue però non avrebbero voluto sposarsi perché Luigi voleva addirittura diventare cistercense, ma la sua difficoltà da prendere in latino fu un muro invalicabile a questa sua volontà. E invece anche Maria Zelia era intenzionata a diventare una figlia della carità. Ma la madre superiore le disse che la volontà di Dio era un'altra e anche in questo caso, benché dura, la volontà di Dio era veramente quella che ella si sposasse. Si conobbero e fu amore a prima vista. Sul ponte di San Leonardo, ad Alençon appunto, dinanzi alla chiesa di San Leonardo, si incontrarono mentre uscivano dalla emessa e lei capì subito che quello era l'uomo della sua vita e infatti sentì una voce interiore che le diceva questo è l'uomo che io ho scelto per te. Si sposarono il 12 luglio 1858 ed è proprio bello che la memoria di entrambi questi santi canonizzati si festeggi il giorno del loro matrimonio non il giorno della loro morte. Ripeto ebbero nove figli però cinque sopravvissero e Maria, Paolina, Teresa e Celina diventarono carmelitane mentre Leonia divenne visitandina e anche di lei è in corso il processo di beatificazione. Affrontarono tante tante difficoltà, la malattia dei figli, il cattivo carattere di Leonia, problemi di ogni genere ma la grande devozione, la preghiera, l'affiatamento, l'amore vero coniugale che ebbero tra di loro, fugò ogni difficoltà e ogni impedimento alla loro santità. Che cosa dire di più? In questo periodo in cui le famiglie sono tanto insidiate, forse i santi genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino ci ricordano che senza preghiera e senza spirito di sacrificio non vi può essere vero amore coniugale. Non solo ma che questa esperienza straordinaria di questi santi genitori che hanno consacrato tutti i figli a Dio ci danno anche la misura, il senso del fatto che sante famiglie generano sante vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata e forse se c'è una crisi tra i consacrati al giorno d'oggi è anche perché c'è una crisi nelle famiglie. Saint-Louis e Saint-Marie-Zélie Martin pregate per noi. Saint-Louis e Maria Zelia Martin pregate per noi.